Chiaramente non nego che arrivare così vicini al pallottaggio e dunque alla possibile vittoria perché poi tutti sanno ed era stato ovviamente raccontato che se fossimo arrivati al pallottaggio anche con il Movimento 5 Stelle le possibilità che poi alla fine si potesse arrivare a una vittoria erano molto alte, molto più alte di tutti gli altri pallottaggi sondati quindi chiaramente per noi arrivare così vicini al pallottaggio e quindi così vicini a una possibile vittoria e perdere proprio all'ultimo, insomma alle 4, alle 5 del mattino è un po' come perdere ai Ligori a finale Coppa del Mondo quindi insomma non nego che un po' di rammarico ci ha colpito nel corso della notte però obiettivamente insomma per quanto possa rimanere un po' la mano in bocca di aver lisciato il miracolo sempre un miracolo abbiamo lisciato, quindi vorrei che tutti quanti insieme mi aiutassi a raccontare di un dato che io considero un dato molto importante, un dato straordinario che io considero un dato straordinario grazie a tutti